ciao a tutti amici e amiche benvenuti in questo mio nuovo video oggi video tag mi faceva piacere fare questo video tag simpatico carino anche se il titolo trae un po in inganno si chiama fuga dall'italia non è propriamente che si intenda questo nel senso nessuno io non voglio fuggire dall'italia però il tag si chiama in questo modo ed è stato ideato da stellina stars 80 che ringrazio perché mi ha anche taggata quindi grazie stellina grazie mara lo faccio volentieri quindi birichina lei non ha messo le domande nell'info box e quindi le metterò io per chi volesse continuare a fare questo tag allora domanda numero uno se un giorno rimanessi senza lavoro prenderesti in considerazione la ricerca di un lavoro all'estero ovviamente sì perché sappiamo bene la situazione in italia e la vedo dura la vedo dura vedo io ho un vecchio contratto tempo indeterminato in un'azienda molto stabile per fortuna però vedo i giovani che sono sotto contratto e non hanno certezze non esistono più dei contratti che ti diano delle certezze quindi questo è veramente triste quindi dovessi rimanere senza lavoro poi alla mia età prenderei sicuramente in considerazione di cercare lavoro all'estero quindi domanda numero due se sì dove come dice anche mara vabbè lei è patita per l'america io america non l'ho mai vista purtroppo prendere in considerazione la svizzera anche se la vedo dura perché la si tutelano e fanno bene però prendere in considerazione sicuramente la svizzera e tutto quello che capita insomma non ci ho mai pensato però in primis sicuramente penserei alla svizzera domanda numero 3 vacanze che hai fatto fuori dall'italia io come già detto sono andata in croazia nell'ex all'epoca era ancora jugoslavia sono stata a pola e all'isola di kirk krk non so bene se si pronuncia kirk e quindi vado alla domanda numero 4 che dice racconta un fatto accaduto all'estero più che un fatto la mia esperienza posso raccontare che penso che chiunque è stato in croazia possa raccontare soprattutto nel mese di luglio agosto credo adesso sono passati talmente tanti secoli ma comunque era o luglio agosto c'era la bora non riuscivi io poi ero molto più magro lì io non riuscivo a stare in piedi cioè facevo fatica letteralmente a camminare dritta cioè la bora e per chi la conosce sa che cos'è non è un venticello qualcosa che ti ti scombussola completamente non ho sopportato non vedevo l'ora di venire via per me è stato tremendo ho vissuto quella settimana col mal di testa perché a me il vento mi fa venire anche mal di testa quindi non è stata una grande esperienza ecco il fatto che posso ah poi ce n'è un altro in francia perché io sono stata ovviamente un po come tutti chi abita a nord chi più chi meno menton siamo stati avevo fatto un giretto a nizza con mio marito eravamo andati parti giro in macchina nizza ma non conoscendola assolutamente eravamo finiti in un quartiere doveva essere tipo il bronx o le vallette tipo di torino io conosco le vallette per dire quartieri malfamati proprio e siamo finiti in mezzo a un gruppo di persone diciamo incappucciate ragazzi col felpino tirato su che ci hanno fatto rallentare con la macchina appena abbiamo rallentato venivano venivano decisi verso la macchina al che ho detto mio marito ma vai accelera vai e lui ha avuto per fortuna non male che non avevamo questa macchina che facilmente si spegne va beh questo è un altro discorso comunque ha dato un colpo d'acceleratore per fortuna la macchina è andata e meno male che questi ragazzi comunque senza conseguenza perché c'è stato anche un attimino il pericolo di investirne qualcuno o uno pensa alla propria pellaccia in quel momento e che paura ragazze mai più andare così allo sbaraglio no vabbè scusate mi sono dilungata un po troppo quindi il fatto è caduto all'estero cioè più questo forse che labora e direi domanda numero 5 se dovessi decidere un posto dove abitare all'estero quale sarebbe qui chi ha seguito un pochino i miei altri tag lo dovrebbe già immaginare ma l'irlanda l'irlanda io vorrei vorrei a parte dalla visitare io sento che vorrei proprio viverci in irlanda ma soprattutto nell'irlanda del sud sì mi ero guardavo addirittura mi ero messa a guardare dalle alcune videocamere live che trasmettevano davanti tipo un'università che c'è lì e io stavo delle ore a guardare l'irlanda era come essere lì da una finestra no e vabbè c'è stato un momento che sarei scappata per andare a vivere lì non so spiegare il perché è comunque l'irlanda anche anche a nord va benissimo comunque andrei lì se potessi scegliere domanda numero 6 cosa pensi dell'italia oggi l'italia è un posto meraviglioso l'adoro mi piace il clima a parte questi scombussolamenti degli ultimi anni mi piace il clima mi piace mi piace tutto che l'italia se dovesse andare all'estero ci cercherei comunque l'italia i posti e la mia patria l'italia non non posso pensare male dell'italia posso solo sperare che migliori politicamente perché perché non vorrei andare a finire come tanti altri paesi mi dispiacerebbe vedere l'italia andare proprio a rotoli in questo modo e oppure che ci stiamo avvicinando ma speriamo di no dai quindi penso che l'italia sia un posto meraviglioso domanda numero 7 voto al tag a me questo tag è piaciuto e simpatico gli do un 8 sono sono quelle cose che ti fa parlare del posto in cui vivi la tua patria per me è bello no 8 tagga io lascio il tag libero suntina f già stata taggata suntina kate perché ti chiamo suntina kate fai il copy and call dalla mia info box che che le ho messe le metto e chiunque a chiunque possa piacere questo tag si ritenga taggato da me che mi fa molto piacere io ringrazio stellina sia per averlo ideato sia per avermi taggata e niente a voi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività e vi invito a iscrivervi e a spolliciare e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti grazie